Buongiorno a tutti e benvenuti all'open day dell'Università degli Studi della Tuscia presso il Polo Universitario di Civitavecchia. Un open day che oggi si svolge in modalità virtuale e in cui ascolterete, dopo i saluti istituzionali di questi primi minuti, l'offerta didattica che è erogata appunto su Civitavecchia. Io sono il presidente del Consorzio Università per Civitavecchia, un ente, questo consorzio, che unisce tre forze. La forza dell'Università ovviamente, che esercita appunto l'attività di accademica, la forza del Comune e la forza della Fondazione Cariciv, che insieme lavorano in sinergia proprio per portare avanti un progetto che oggi è in forte espansione, cioè quello dell'Università a Civitavecchia. Il Polo Università per Civitavecchia offre diversi servizi, oltre quello dell'erogazione dei corsi universitari, ha delle strutture. Ovviamente quest'anno si apre in una modalità mista, quindi quello che sentirete successivamente anche nella parte specifica di presentazione dei corsi, ascolterete che la modalità di erogazione è una modalità di erogazione che sfrutta il massimo della potenzialità della lezione in presenza e il massimo della potenzialità della lezione online. La struttura del Polo è una struttura che lega numerose aule, aule informatiche, laboratori di tipo scientifico, didattico, ma anche non soltanto corsi triennali, ma anche magistrali e corsi e anche master, di cui stiamo avviando la seconda edizione del master in neuroprogettazione, un master molto apprezzato dalla pubblica amministrazione che pone su un aspetto ancora più specialistico appunto la formazione strategica di chi è laureato e che quindi in qualche modo si porta poi nel mondo del lavoro con specializzazioni e skills. In qualità di presidente del consorzio universitario, quindi io seguo tutte quelle che sono le attività e in questo momento il nostro impegno è quello di riaprire in totale sicurezza senza levare appunto quello che è la pienezza della erogazione del servizio dell'erogazione del servizio all'interno dei corsi, all'interno di quella che per noi è la trasmissione della conoscenza. Voi tra poco ascolterete i saluti istituzionali, quindi del Rettore, del Sindaco e della Fondazione Cariciv e del Presidente di Confindustria su Civitavecchia. Dopo i saluti istituzionali verranno aperte le due room, avrete visto il link sul programma informatico alla pagina web a cui avete avuto accesso per entrare appunto a sentire questi saluti, cercherete i link e sarete divisi in due room virtuali in cui una è una room dove si ascoltano tutti i corsi economici, soprattutto il corso di economia aziendale legato e triennale e dall'altra invece i corsi scientifici. Ho detto i corsi perché quello economico poi verrà fatto un cenno e anche in quello scientifico un cenno alle lauree magistrali, cioè a cosa viene successivamente alla laurea triennale per continuare il percorso di studi qui al Polo Universitario di Civitavecchia. Vi lascio subito ai saluti, dopo i saluti allora subito alle room e poi controllate l'accesso ai test perché potete iniziare oggi il test, sono previsti, già vi sarete sicuramente prenotati e quindi in qualche modo potete perfezionare quella che è poi alla fine del test anche l'iscrizione. Un saluto a tutti e continuiamo con i saluti istituzionali. Buongiorno a tutti, Open Day 2020, un appuntamento assolutamente importante che ha un significato non solo simbolico ma anche sostanziale per una speranza di ripartenza, per iniziare. Il mondo universitario non ha mai cessato di funzionare ma questa è l'occasione importante perché dobbiamo finalmente immaginare un futuro e sperare in un futuro che sia assolutamente diverso da quello che abbiamo vissuto soprattutto negli ultimi tempi. Quindi ripartiamo perché l'amministrazione crede nella cultura, crede nel mondo universitario e questa occasione di presentazione è un'occasione veramente unica. La nostra università è un fioro all'occhiello della città, è un'università che ha grandi prospettive e sicuramente è un'università che ha lavorato soprattutto in questi mesi per creare le condizioni anche sotto profilo strutturale, sotto profilo logistico, sotto profilo organizzativo per far sì che la ripresa sia anche garantita da quelle che sono le regole di sicurezza e di garanzia di cautela che devono inevitabilmente rappresentare e coordinare tutto il lavoro che si dovrà svolgere. Quindi un saluto a tutti gli studenti e la speranza che effettivamente come dicevo prima si possa ricominciare e che proprio attraverso l'università di Civitavecchia si possano creare quegli stimoli e quelle iniziative che portino a un futuro occupazionale che dia delle garanzie attraverso dei corsi che sono veramente specializzati e che devo dire come dicevo poc'anzi sono il fioro all'occhiello di un'università che si caratterizza non solo a livello locale per un qualcosa di veramente importante, per un qualcosa di veramente utile per lo sviluppo e per la crescita della comunità e per una speranza di futuro positivo per i nostri giovani. Grazie a tutti, buon lavoro e buona giornata. Buongiorno ragazzi, purtroppo anche questo Open Day siamo costretti a farlo attraverso le immagini ma vi assicuro che l'università e la fondazione hanno fatto di tutto per garantirvi delle possibilità che vi diano modo di poter partecipare anche di persona ad alcune lezioni. Il vostro è un compito importante, è un compito importantissimo per questa nostra società. Abbiamo tutti bisogno di voi e vi auguro un buon anno accademico. Cari ragazzi, buongiorno. Vorrei raccontarvi che siete il futuro di questo Paese, rappresentate una speranza per l'industria italiana e per questo territorio. Un territorio che sta vivendo delle difficoltà, che la pandemia ha accentuato, ma è anche un territorio di grandi potenzialità e noi siamo convinti che da persone, da giovani come voi, può questo Paese e soprattutto questo territorio ripartire. Quando abbiamo aperto la nostra sede a Civila Vecchia, ormai sei anni fa, ci siamo subito resi conto che era un territorio che, come vi dicevo, con grandi potenzialità, con imprenditori capaci. Voi nel vostro polo universitario avete professori attenti alle esigenze delle imprese. Abbiamo poi incontrato giovani come voi, con grandi ambizioni, con grandi aspettative, con grandi idee e questo ci ha dato una grande speranza per il futuro. Per questo motivo riteniamo che nonostante tutto, nonostante le difficoltà, la crisi che sta vivendo il porto a causa del lockdown e della pandemia, le difficoltà che stiamo vivendo con le imprese presso la centrale Enel, che, come sapete, è nella fase di phase out, che prevederà la riconversione da carbone a gas. Nonostante tutto, siamo convinti che questo territorio può ripartire e nutriamo grandi speranze sul vostro futuro e sull'alporto che voi potrete dare alle nostre imprese. La pandemia ha cambiato tante cose nel mondo, nel nostro paese, nel nostro territorio. L'approccio che le imprese hanno al mercato è cambiato. Molte aziende lavorano unicamente in smart working perché chiaramente evitano i rischi che la pandemia può generare, anche a tutela dei loro lavoratori. Questo però ci impone dei nuovi modelli organizzativi, dei nuovi approcci al mercato del lavoro. Per questo mi sento di suggerirvi tre parole chiave che possono esservi utili, a mio parere, per il vostro futuro. La prima è flessibilità. Siate flessibili. Questo permetterà a voi, a prescindere dalla strada che intraprenderete, se farete gli imprenditori o entrerete in un'azienda, questo vi permetterà di dare valore al vostro impegno lavorativo e all'azienda vostra o di dipendenza presso cui lavorerete. Impegno. Metteteci impegno perché questa è una ricchezza che voi potrete sfruttare per il vostro futuro. E soprattutto competenza. E qui l'università e quello che farà per voi sarà molto importante. Un ultimo suggerimento, se mi posso permettere, è non dimenticate mai di sognare. Quindi continuate a lottare per i vostri sogni e fate ogni cosa che vi è possibile per potervi realizzare. In bocca al lupo a tutti. Un saluto. Buongiorno a tutti e benvenuti al polo di Civitavecchia dell'Università della Tuscia. È un grande piacere darvi questo benvenuto, seppur in maniera virtuale. Questa edizione dell'Open Day segue l'Open Day organizzato dall'Università di Civitavecchia nel mese di marzo. Per cui non voglio ripetere le stesse cose, anche perché l'Open Day del mese di marzo è ancora visibile nei nostri canali YouTube. Ma voglio concentrare questo brevissimo intervento di pochi minuti sulle novità. La domanda che gli studenti e le loro famiglie mi fanno più spesso è come sarà la didattica nel primo semestre del prossimo anno accademico. E in particolare se gli studenti potranno tornare a frequentare le aule del nostro Ateneo. E la risposta è sì. Con l'inizio del nuovo anno accademico gli studenti potranno tornare a frequentare le lezioni in presenza, grazie ad un modello ambizioso di riprogettazione della didattica, degli spazi e delle aule. Per cui salvo esigenze didattiche o sperimentazioni di didattica innovativa, su cui i dipartimenti hanno una libertà al massimo sul 10% degli insegnamenti, tutti gli altri insegnamenti avranno almeno due terzi delle ore con didattica in presenza. E dato che tutte le aule sono dotate di sistemi multimediali, le lezioni che verranno erogate nelle aule dell'Università di Civitavecchia saranno trasmesse in diretta sul web o videoregistrate e quindi fruibili dagli studenti in qualsiasi momento. Pertanto tutti gli studenti che non vorranno seguire le lezioni in presenza o che saranno impossibilitati a farlo per ragioni per esempio mi riferisco agli studenti lavoratori, agli studenti stranieri, agli studenti in condizioni di disagio, potranno seguire le lezioni da casa. Ovviamente dobbiamo fare tesoro dell'avanzamento tecnologico forzato dovuto al Covid, utilizzandolo guardando al futuro, quando torneremo finalmente alla normalità per migliorare anche la didattica in presenza, perché il nostro Ateneo non è e non sarà mai un Ateneo telematico. In sintesi, le lezioni saranno erogate in modalità mista, i docenti faranno lezioni in aula con studenti in presenza e gli studenti saranno collegati, altri studenti saranno collegati in diretta streaming. Tutte le lezioni verranno videoregistrate per poterne fruire anche in seguito. E questo vale per tutti gli studenti, non solo le matricole, ma anche gli studenti che frequentano il secondo o il terzo anno, nel caso delle lauree treennali. Questo perché non ci dobbiamo dimenticare che gli studenti che frequenteranno il secondo anno sono gli stessi che non hanno potuto fruire della didattica in presenza nel secondo semestre dello scorso anno. Ovviamente le nostre aule sono abbastanza spaziose, però laddove lo spazio non sia sufficiente per accogliere tutti gli studenti che vogliono seguire in presenza. Abbiamo previsto un sistema di rotazione a gruppi, quindi quando un gruppo assisterà alle lezioni in presenza, l'altro potrà seguire le lezioni a distanza e in diretta sul web. I due gruppi si alterneranno legalmente. Ovviamente tutto questo va fatto in assoluta sicurezza, per questo abbiamo stilato un protocollo per la regolamentazione degli accessi e delle attività con il principio di combinare la tutela della salute di tutti i studenti e dipendenti e una didattica di qualità, per cui invito tutti gli studenti a consultare il protocollo consultabile sul sito web dell'Università della Tuscia. Gli studenti poi avranno in dotazione delle mascherine con il logo dell'Università e il colore del Dipartimento di Afferenza. Non possiamo prevedere come andrà avanti la pandemia, ma posso tranquillamente assicurarvi che qualunque siano le condizioni future, qualsiasi decisione dovessero assumere le istituzioni, l'Università della Tuscia è pronta e gli studenti potranno continuare a seguire le lezioni, a sostenere gli esami e a laurearsi. Dato che il periodo è stato molto difficile, anche economicamente, per le famiglie italiane, abbiamo varato importanti misure di sostegno per il diritto allo studio. Con la nostra disciplina delle tasse, il livello di reddito ISEI, al di sotto del quale non si paga alcuna retta, è stato innalzato dai 20.000 euro previsti dal Governo a 22.000 euro. Abbiamo una serie di agevolazioni con scontistiche significative, fino a 30.000 euro di ISEI, e altre misure come l'esonero fedeltà per gli studenti che, laureati nel nostro Ateneo, decidono di iscriversi ad una laurea magistrale dell'Università della Tuscia, o le sonero famiglie, che consiste in uno sconto nel pagamento delle tasse per i studenti che hanno fratelli o sorelle già iscritte all'Università della Tuscia. Abbiamo anche varato importanti misure di sostegno al merito e al reddito. Abbiamo un programma cosiddetto raddoppio bonus cultura, con borse di 500 euro a favore di studenti particolarmente meritevoli, che intendono iscriversi all'Università della Tuscia. in particolare tutti gli studenti che hanno conseguito 100 elode alla maturità potranno accedere a questa borsa, così come gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale con 110 elode decidono di iscriversi ad un nostro corso di laurea magistrale. Ovviamente le graduatorie saranno stilate sempre in base al reddito familiare. Abbiamo appena emesso un bando per assegnare circa 500 tablet agli studenti che non hanno l'opportunità di avere strumentazione tecnologica adeguata per seguire le lezioni a distanza. Le misure ovviamente evidenziano l'attenzione che il nostro Ateneo, i nostri organi di governo hanno nei confronti delle famiglie e dei loro ragazzi. Vogliamo che i migliori ragazzi e i ragazzi del territorio si iscrivano presso l'Università di Civitavecchia che è un asset importante per il territorio perché se dovessimo assistere ad un calo delle matricole significherebbe che il Covid non solo ha messo in ginocchio l'economia del mondo e del nostro Paese ma porterà via anche un pezzo del nostro futuro soprattutto per noi che abbiamo come Paese così pochi laureati nella fascia di età tra 25 e 34 anni. Probabilmente se siete qui vi sarete già informati su quelli che sono i vantaggi del nostro Ateneo il livello molto alto di soddisfazione degli studenti la disponibilità del personale docente e del personale tecnico amministrativo la competenza dei nostri professori ricercatori certificata dalle valutazioni del Ministero dai numerosi e prestigiosi progetti di ricerca in corso e anche dall'accreditamento di istituti stranieri che recentemente ci hanno anche incluso tra le migliori università al mondo. La nostra dimensione è tale da garantire contatti umani più semplici e immediati la possibilità di accedere ai servizi in maniera più agevoli e non mi riferisco solo ai servizi online ma anche e soprattutto ai servizi di tutoraggio alle borse di studio che vi ho parlato alle esperienze all'estero su cui il nostro Ateneo offre grandissime opportunità nell'ambito del programma Erasmus ma nell'ambito di molti altri programmi in particolare tutti i nostri studenti che hanno desiderio di svolgere un periodo di studio all'estero possono farlo perché abbiamo le risorse per consentire loro di farlo. Vi esorto ad utilizzare la giornata di oggi al meglio fare domande sapendo che la scelta che state per fare condizionerà il vostro futuro sia nei prossimi anni quando studierete sia successivamente perché la laurea determina nella gran parte dei casi il lavoro che uno andrà a svolgere nella vita e a proposito di futuro mi piace ricordare anche che i dati elaborati dal Consorzio Almar Aurea in merito all'avviamento al lavoro dei laureati dell'Università della Tuscia sono ottimi e confermano l'elevata qualità della didattica la grande credibilità che la nostra università ha da parte del mondo del lavoro abbiamo addirittura corsi di laurea con il 100% dei laureati che trova lavoro stabile e abbiamo comunque livelli occupazionali medi più alti della media nazionale in tutti i corsi che eroghiamo all'Università di Civita Vecchia prima di concludere voglio ricordarvi che il nostro orientamento online continua grazie al servizio di orientamento digitale che abbiamo messo in piedi gli studenti interessati a riscriversi ai nostri corsi di laurea possono attraverso il sito web unitusorienta.unitus.it prenotare un colloquio oppure prenotare una visita delle nostre strutture attraverso un semplice formulario online poi verranno richiamati e voglio ricordare a tutti che in questi giorni si svolgono i test d'ingresso ci sarà una data successiva il 24 settembre per ragioni organizzative dobbiamo chiudere le iscrizioni 48 ore prima per cui vi esorto a iscrivervi rapidamente il test d'ingresso non è selettivo per cui potete iscrivervi a uno dei nostri corsi di laurea anche se non avete superato il punteggio minimo e potete sostenere i test d'ingresso in una data successiva e ricordatevi anche che per poter fruire della didattica innovativa di unitus quindi per frequentare le lezioni in presenza o per assistere alle lezioni a distanza dovete almeno iscrivervi online dopodiché il bollettino delle tasse lo pagherete entro i termini previsti del 5 novembre ma iscrivetevi online subito altrimenti non possiamo riconoscervi non possiamo autorizzarvi né a venire in presenza né ad assistere alle lezioni a distanza l'iscrizione online è un'operazione semplice veloce che non comporta alcun costo nell'immediato per cui iscrivetevi tutti subito con questo vi ringrazio e auguro un buon Open Day a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti